Un saluto da Ponte News Nella giornata di domenica 12 giugno le vie di Ponte Curone si sono colorate con l'evento Coloriamoci Insieme Servizio Le vie di Ponte Curone si sono colorate domenica 12 giugno dalle 14 con iniziale ritrovo al parcheggio della casa di riposo del Don Orione percorrendo poi per 4 km nelle strade del paese fino alle 17.30 circa, orario delle premiazioni, a cuora di Doloris Giacomelli avvenute queste ultime in Piazza Marti della Libertà. Molti partecipanti, tra cui alcuni membri del piccolo cottolengo Don Orione e Tortona, circa una ventina. Ma gli ospiti di eccellenza non sono finiti. La straordinaria presenza in rappresentanza dei profughi dell'Ucraina, definiti da Doloris, amici dell'Ucraina, ha lietato i cuori del pubblico. Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla realizzazione del nuovo oratorio. L'evento è stato organizzato dalle parrocchie di Ponte Curone, con il patrocinio del Comune di Ponte Curone. La realizzazione dello stand in Piazza Marti della Libertà, finalizzato alla premiazione, è stata a cuora di GS Passavalle-Scrivia e Val Curone. Per ora è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci.